Noi non possiamo aggiungere nemmeno un'ora alla nostra vita, perché il Signore sa benissimo quando ci verrà a prendere, e spesso nell'ora che nemmeno immaginiamo. Egli ci ha avvertiti affinché siamo sempre svegli e pronti alla sua venuta, consapevoli che questa vita terrena prima o poi si deleguerà per dar spazio alla luce della verità, nell'amore di Dio. Tutti siamo destinati a raggiungere una pienezza, ed è lo Spirito Santo, sempre attivo, che completerà in noi l'opera di Dio. Egli vi guiderà alla verità tutta intera. La verità si acquisisce nell'autoconsapevolezza più pura, quando cioè cominciano a sfaldarsi i nostri pregiudizi e vediamo con gli occhi interiori. Lo Spirito Santo ci aiuta a comprendere che siamo continuamente sostenuti dal Creatore e possiamo essere salvati grazie alla sua misericordia tramite il sacrificio del suo Figlio Gesù Cristo. L'uomo ricolmo di Spirito Santo vede sempre le cose rinnovarsi e legge i reconditi segni della sua vita, i quali lo stimolano ad amare sempre di più il Signore, vera via, vita e verità. Sa che nulla è a caso e che il Signore ci parla attraverso la Sacra Scrittura, ma anche tramite gli eventi quotidiani, gli incontri e le piccole cose di tutti i giorni. Lo Spirito Santo ci guida in continuazione verso la maturazione spirituale. La conversione interiore può venire in ogni istante. Ogni istante è preziolo, perché la morte, che è una rinascita in cielo, avviene nell'istante che Dio vuole, allorché per Lui abbiamo raggiunto la pienezza della nostra statura umana in Cristo.